Di stacco tra Giulia Stabile e Maria De Filippi. Cosa è successo davvero? Ecco perché lei non tornerà nel programma. I timori dei fans. Giulia Stabile è tra gli ex allievi di amici che hanno trovato uno spazio in tv. La giovane ballerina, dopo aver vinto il talent, è entrata di diritto nella squadra dei professionisti della scuola di Maria De Filippi. Inoltre ha avuto la possibilità di presenziare a Tussi Kevales, sedendo al tavolo dei conduttori. Per diverse edizioni ha affiancato Belen Rodriguez. Poi la scorsa stagione l'Argentina ha abbandonato il format e Giulia ha condotto insieme a Martin Castro Giovanni e Alessio Sacara. Le registrazioni della prossima edizione di Tussi Kevales cominceranno a luglio. Il programma andrà in onda come di consueto dopo l'estate. Confermati in giuria Rudy Zerbi, Jerry Scotti e Luciano Littizzetto e presidente delle preferenze del pubblico sarà Sabrina Ferilli. I dubbi nascono in merito alla presenza di Giulia Stabile come co-conduttrice. Secondo alcuni rumors la ballerina potrebbe non tornare nel programma. A quanto pare ha altri progetti in ballo. C'è chi tuttavia sostiene che l'eventuale assenza di Giulia sia legata ad un presunto contrasto con Maria De Filippi. Difficile immaginare che fra le due possa essere successo qualcosa. Visto anche che la conduttrice si è sempre dimostrata protettiva con i suoi allievi e in particolare con la stabile. Che ha sempre cercato di tutelare. Per ora non ci sono dichiarazioni in merito. Nessun annuncio ufficiale. Ma l'assenza dell'ex vincitrice di amici da Tussi Kevales sembra più che certa. Chi prenderà il suo posto? Un nome sembra essere più accreditato di altri. Tussi Kevales. Giulia Stabile sostituita? Ecco da chi. Giulia Stabile potrebbe dare forfè alla prossima edizione di Tussi Kevales. La giovane ballerina non ha avuto nessun contrasto con Maria De Filippi. Ma avrebbe altri impegni professionali. Al suo posto potrebbe arrivare un personaggio vicino a Maria De Filippi. Che ha conquistato la popolarità grazie a uomini e donne. Ex corteggiatrice molto discussa. Molto attiva sui social. E spesso protagonista del gossip. Lei è Giulia De Lellis. Giulia ha condotto Love Island e poi con Love Beauty e amore alla prova. Si è messa alla prova nelle vesti di presentatrice e ha superato il test. Potrebbe essere il volto giusto per Tussi Kevales. Colmerebbe alla perfezione il vuoto lasciato da Belen. E anche quello di Giulia Stabile. Per ora sono solo illazioni. Non ci sono conferme ufficiali. Ma non è un segreto che la De Filippi ha sempre manifestato alla De Lellis la sua simpatia. Non resta che attendere ancora qualche settimana per conoscere il nuovo volto di Tussi Kevales.